Ciao a tutti ragazzi da TFG Unemano Allora, sto diventando più forte Io, che ho fatto un Ace Espelli Espelli, no Perché voglio ne sparare qualcuno? Perché recluta Ma dai, recluta si vede che è talmente forte che non serve per lui un operatore Esatto Io uso il castello Conosco le mappe Che tu hai fatto Ace Non ci credo Ragazzi Lo puoi fare con le carote e l'arancia Ah, il succo No, vi giuro ragazzi che ho fatto adesso uso il castello Preparation phase Wow, secure Ok, perfetto Ah, vedi che sta arrivando già la merdata, l'hai vista? Sì, sta arrivando Eccolo qua Ok Ah, pensava lui Comunque aspetta un attimo Spero che abbassino, non ci vediamo dopo Ok, al finito mi devi stare dopo il volume Perché devo sentire i passi Ovviamente Oh, devo ancora comprare Adesso lo copro Dopo questo momento non lo copro Intanto lo dimentico come al solito No, devo comprare quella fare Che mi dà la possibilità di attaccare due cuffie nello stesso computer Quindi anche Rinnegan potrà sentire l'audio Eh, non sentirà più la tua voce da caso La mia voce da caso? Allora, questa è la bomba E là c'è la bomba Io ho barizzato qua Perché è così? Loro possono Eh, per che hanno messo Mira Guarda, guarda adesso Adesso vedi che Ecco, hai visto? Ah, mira fa così Esatto, mira fa così Mira il dito Ah, lo posso entrare da qua? Porca puttana, dove mi metto io? Dove mi metto? Dove mi metto? Dove mi metto? Non lo so Lo metto qua, guarda Sì, ma qui c'è la porta dalle stesse Non so Hai ragione Magari loro non entrano da qua Spero Ecco, mi serve il volume adesso Rinnegan Brazzi Uh, è lì dietro Attenzione che è lì dietro Non sto nemmeno a mettere la bomba, eh 22 metri da me Attenzione 12 Dove cazzo è? Ma che cazzo è che sparo? Ma sono i miei amici che sparano da... Aspetta che fosse uscito, sai Giro, ora giro così Ok, dove cazzo è, oh? Merda, merda Chi cazzo mi ha sparato? È il glass Sapevo che era il glass io Sapevo che era il glass D'altra parte quando uno è da so... Ma non era di qua? Ah sì Eh, eh Sì cazzo Non l'avevo visto, non l'avevo visto Vabbè, oh Tanto loro D'altra parte quando faccio il video Io potrei stare fermo qua Lui deve piassare la bomba, giusto? Esatto Ma non mi interessa Io voglio Quando faccio il video Voglio mettere un po' di suspense, ok? Però è facile vincere round Quando tu devi difendere gioco Perché non l'ha sparato? Oh, bravo Vedi, se tu stai fermo Lui A pochi secondi Deve fare qualcosa E finisce quasi sempre con fare la cazzata Se tu stai fermo Quasi sempre vinci Però non mi vuole di star fermo Che palle star fermi Perfetto, adesso attacco Connessione e persa Connessione? Barricade qualcosa Barricade room Allora Anzitutto Qua non posso mettere E che non ho capito mai Perché il capham Non può mettere le trappole Dove vuole Sulle finestre Eh ma cosa che è cцевale il testo Ma che cazzo è oh? Ma veramente? Sì vabbè, mettiamo il qua, ok, dai, metti la trappola che precisi, ah ti funzioni di nuovo, booby trap eh, ho cambiato il tasto non uso la rotellina, uso il tasto laterale ok, poi mettiamo booby trap anche qua, si spezza un attimo ah, finalmente l'ho colpito a cazzo, ok, perfetto ti chiudi da questa parte, quindi ahia, ma davvero to allora mettiamo la booby trap finalmente a questa parte, eh, ho sbagliato eh, si vede che sei più furbo da cucciolata eh, sono più furbo della cucciolata questo qua, così dai, booby trap, veloce, booby trap dai, veloce, veloce, veloce ok, perfetto, booby trap e adesso? e adesso andiamo tutta altra parte la metto qua, ok, chiudi, chiudi chiudi, 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 veloce chiudi, 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 ok booby trap oh, ok, perfetto, e abbiamo la booby trap ottimo, adesso qua ci metto oh, cazzo non altro scudo questo, ma vabbè cos'è quello? è il coso, eh è il c4 è il c4, esatto, il c4 lo possiamo mettere qua così aspetta, eh, no, oh, l'ho visto oh, c'ho, 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 che cosettina eh, successo e la, la, c'ho le minchiattine che cazzo è che spara, cos'è? eh, ah, sono loro che mettono il aspetta un attimo non mi sento non mi sento al sicuro ma quello wow tira via è morto con la booby trap perfetto qualcuno è morto con la booby trap, ragazzi era anche lì c'è la booby trap aspetta ok, l'ho rotto perfetto io adesso non so se sono qua se sono qua dietro eh, non sto a guardare la telecamera se poi mi spunta da qua e ti ricordo che anche da dietro può arrivare aspetta, eh, con gran calma quello è una roba di castello, giusto? si hai visto? eh, ho visto allora, io spero solo che se lui mi ha visto dal drone pensa che quello morto lì sia io no, perché sei tu sei un cespuglio che cammina quello è Jason Stratman quello è Jason Stratman quello è Jason Stratman? ma vedi lui che aveva il pulse potevo usare il… mi faccio vedere ma si che ti ha già visto? sei sicuro? ma si ahah ahah, la booby trap perfetto perfetto ragazzi la booby trap ottimo io adesso pure che sono qui dietro Ho una paura della madonna Eh o lì Possono essere dietro Ma lì è appena morto uno Non c'è già dove è quella booby trap Ma dove cazzo sono E sono tornati dietro Ma c'è il ping a 1600 Ma ho problemi a internet ragazzi Si vede un po' Per fortuna con le booby trap Chissà cosa sta succedendo in questo momento in realtà Magari sono già morto non lo so Esatto Però vedi che lo vedo muoversi tranquillamente quello Ah adesso il ping a 400 Solo Mi sta calando dai Ma dove Se il ping a 400 uno è Fermi Sì Muori merda L'ho visto L'ho visto Ma è flagga L'ho ucciso Perché laggavo Comunque Non ci si 4 eh Non ci si 4 rinnegano Non ci si 4 Tu mi credi che ho fatto ace? No Non ci si 2 con la booby strap e 2 sparando Booby strap? Con la booby strap Con la booby trap scusa il strap Ok qua adesso uso la montagna per questa mappa È dato un lag Oh che cazzo è? Stai scaricando? Non sto facendo niente sto verificando Eh Non sto scaricando una minchia You have been spotted Ma da chi? Non capisco neanche dove sono Mamma mia cos'è sti lag? È qua sotto Andiamo sotto Andiamo Terza partita che faccio ragazzi questa volta provo Quale vorresti comprare? Dimmi tanto a te sposo Fai larmi quale le vorresti comprare Il giacca lobo capitao Non lo so Toucher Non lo so Prendo Fuse Margaret Thatcher Margaret Thatcher? Cosa prendo? Fuge? Prendo il Fuse Il Fuse Io lo chiamo Fuse Io lo chiamo Fagiano Tu lo chiami Quello di Super Mario Con il fungo in testa? Sei tu quello che hai detto Super Mario con il fungo in testa? Esattamente Adesso che il ping è buono Questa la farò cagare Perché sarà così È un pallone Un pallone da calcio Ok Perfetto Loro sono a 42 metri da me Tu forse hai scusami? Fuse Che? Che è quello che mi piazza queste cose qua Che fanno pum 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 E sputano le bombe dentro C'è che tu quando arriverai alla finestra giusta Se devo capire Ah sono lì dietro loro E poi metto il Fuse Però loro potrebbero spararmi da lì poi Beh però potreste arrivare dalla finestra Aspetta eh Aspetta eh Aspetta che scende Non so dove sono le telecamere Partiamo con questo presupposto Non lo so proprio dove sono Aspetta che no Si sa mai che loro mi vengono a sparare da lì Dove cazzo è la telecamera che mi ha spottato? Dov'è? Cos'è? Cos'è tutto? È una telecamera Quella? Sì Ma no Ma non è una telecamera Che palle oh Vedi perché non mi piace Ahia Ecco Che faccio schifo letteralmente In sta mappa Ma guarda che stronzi Ma Loro Io se uno cade per sbaglio Torni indietro Lo tiro su Sì l'ho già fatto più di una volta Ma guarda Ma perché sono stronzi Oh grandissimo Grandissimo più che tu sia Ok sparagli in faccia adesso Grazie Fuzzer Via 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 Fuzzer vai Non ho fuso nessuno Bene Funziona bene E neanche colpito qualcuno Vai catturali tutti Bastardo Che cazzo Vabbè Ho fatto cagare Ma ero prima di tempo Venuto a fare che faccio cagare In sta mappa Non so dove C'è troppo l'aria da guardare Avanti Indietro Nell'angolo Sotto le scale Poi cadi Poi dici Boh Aspetta che mi butto Nella roba sotto E cadi Ti spacchi le gambe da sotto Facciamo così Avete visto che ero migliorato Sì Dopo ho visto che è peggiorato Ho ucciso quattro persone Allo stesso round E abbiamo vinto Ciao a tutti E al prossimo video